Presidente, si è potuto rendere conto, toccare con mano quello che è successo qui in Valleformazza? Cosa può fare concretamente la Regione per risolvere questa emergenza? Noi siamo venuti sul posto, come siamo abituati a fare, per vedere di persona. Il consigliere regionale Preioni di questa provincia ci aveva già ampiamente segnalato le difficoltà legate a un problema che affonda le sue radici negli anni passati, che ha avuto un aggravamento fortissimo nel corso dell'ultima estate. È importante quello che formalmente abbiamo già fatto, cioè come Regione insieme al Comune e alla provincia abbiamo richiesto lo stato di emergenza che ci permetterà di intervenire. Siamo già intervenuti fisicamente e concretamente con 300 mila euro di risorse del Piemonte proprio per mettere in sicurezza una prima emergenza, però qua bisogna trovare una soluzione che possa essere il più possibile definitiva perché queste sono valli meravigliose che vivono di turismo e purtroppo questi eventi avvengono sempre nel periodo estivo quando c'è la maggiore affluenza turistica. Ma noi ci siamo con la richiesta di Roma, sulla quale avremo una risposta dal Consiglio dei Ministri entro la fine di settembre, noi avremo risorse da poter intervenire e far sì che questo non sia un problema che ogni anno sia grava e che ha i suoi momenti di urgenza, ma che possa avere finalmente soluzioni definitive. La regione è venuta per rendersi conto di persona su quello che è successo in Valle Formazza mi sembra di capire che ci siano due problemi, due fronti su cui intervenire. Sì, la situazione ovviamente che era già pesante con la frana di giugno ovviamente si è acuito con il fatto che poi ai primi di agosto le forti piogge hanno fatto movimentare quella che è la morena del Vannino che già nell'87 si era movimentata creando la luvia dell'87. Adesso per quanto riguarda il Vannino stiamo svuotando il più possibile l'alveo e alzando con dei blocchi il largine lato campeggio in modo da cercare di preservare il più possibile le abitazioni e appunto il campeggio. Quello che c'è da fare è sicuramente una programmazione a breve di tutti gli interventi che stiamo, noi l'idea li abbiamo dobbiamo un attimino concretizzare e realizzare gli interventi sicuramente di chiusura della sommorgenza e chiusura delle opere di protezione sia della frana di Valdo, di giugno diciamo e quella di agosto. Quello dobbiamo chiudere assolutamente questa parte e sicuramente riuscire a trovare le risorse per la prevenzione perché è fondamentale.